Bene, benvenuti, cominciamo oggi con il primo strumento che secondo me è essenziale per poter fare un escape room e che è un trigger, un interruttore. L'interruttore è qualcosa che fa accadere una cosa oppure il suo contrario ogni volta che viene premuto, c'è un interruttore, tipo in una stanza, accende o spegne la luce apre e chiude la porta, fa partire o meno un suono insomma, ci sono tante le possibilità di uso di queste cose qua. Non utilizzeremo in questo script della sincronizzazione quindi l'interruttore agisce solo per ogni persona singola. Comunque l'effetto è questo, se io clicco, l'interruttore sarebbe questa sferetta clicco, aspetta, c'è interagisco, quindi interaccio, vedete che sparisce il cubo e se lo riclicco, riappare il cubo. Qui adesso ripartiamo da zero e vediamo come costruire una scena che è prima senza no code e poi vedremo che comunque avremmo bisogno di un pochino di codice con codice visuale per poter ottenere questo effetto qua. Comunque vi anticipo che il codice, che sarebbe in questo caso contenuto dentro la sfera interactable della sfera, avrà più o meno questa struttura poco più o poco meno, cioè praticamente ci sarà un non interact e poi una serie di cosette che partono con delle variabili sull'oggetto che dicano se si vuole rendere visibile o meno e qual è l'oggetto che deve essere reso invisibile o meno e quindi deve essere impostato. Allora ripartiamo da zero perché così vediamo effettivamente tutto come funziona quindi abbiamo una scena iniziale base, quindi questa che facciamo, ok, qui ci sono, forse facciamo prima ancora ricostruire da zero, quindi facciamo create scene, ok quindi creiamo una scena nuova ok, nuova scena qua e questa scena facciamo video, la chiamiamo perché è la scena del video la clicchiamo in modo tale da averla questa scena la facciamo come al solito dentro il nostro aggancio a special quindi creiamo qua l'aggancio a special dobbiamo spostare la scena video dentro qui scegliendo un'immagine, tutte queste cose e poi bisogna vedere con issues che cosa nella scena nuova manca quindi manca thumbnail, ci sono delle cose che non vanno sappiamo che bisogna togliere praticamente la camera principale bisogna creare un thumbnail, un entry point come minimo e quindi adesso abbiamo ancora la situazione in cui manca la terra, questi piedi quindi la andiamo sicuramente a costruire quindi andiamo qui e creiamo un piccolo piano plane, ok, questo le coordinate, ricordate che le coordinate devono essere possibilmente sempre quelle principali andiamo a prendere l'entrance point, questo e lo mettiamo anche lui nelle coordinate 0, 0, 0 e la stessa cosa la facciamo anche per il thumbnail camera ok, quindi sono tutte praticamente all'origine piano abbiamo fatto quindi andiamo nell'entrance point lo facciamo un pochino più alto e lo flustiamo a lungo il rosso e poi a thumbnail camera può stare anche bene l'inco ok, fa la foto più o meno di quello che succede davanti a sé poi quindi questi sono gli elementi di base quindi così già potremmo lavorare vediamo un po' se ci dice che è a posto facciamo un issues facciamo un refresh ok, è tutto giallo ma l'importante è che non sia rosso come sappiamo bene e adesso qui, in questa scena, cosa facciamo? introduciamo praticamente clicchiamo in un punto per dire il punto origine no? del piano e qui dentro ci creiamo quello che sarà il nostro cubo quindi creiamo un oggetto 3D Cube questo oggetto 3D Cube ce lo metteremo magari un pochino più in alto per vederlo e poi sempre all'origine delle coordinate creeremo un interruttore l'interruttore la chiamiamo prendiamo una sfera una sferetta e la mettiamo qua ora sulla sferetta vogliamo che la sferetta quando viene cliccata faccia sparire il cubo ora, c'è una soluzione che potrebbe quasi funzionare anche senza script e cioè se voi fate un escape room in cui magari questo cubo in realtà rappresenta una porta per cui l'obiettivo è quello di farlo sparire per poter permettere di andare alla camera successiva allora il cubo rimane lì ed è evidente ma nella sfera possiamo aggiungere un interactable quindi praticamente aggiungiamo in questa sfera l'add component script machine e nella script machine ci creiamo dentro assets classroom visual facciamo new andiamo in assets classroom visual cioè praticamente qui dove siamo e gli facciamo un ah no abbiamo detto no code scusate quindi la script machine lo faremo tra poco però nel frattempo gli aggiungiamo quello che è semplicemente il componente interactable quindi interactable special interactable vedete che una volta aggiunto la sfera definisce un raggio entro il quale la sfera è cliccabile quindi è possibile ridurre il raggio se vogliamo che sia cliccabile quando si è vicini alla sfera come sappiamo e poi soprattutto abbiamo i vari eventi che possono accadere ad esempio possiamo mettere che se si entra in quell'intervallo sparisce il cubo quindi si può farlo su un onether e se si esce dall'intervallo riappare insomma tutte cose del genere senza codice facciamo soltanto l'evento più importante che è non interact non interact significa che quando quando clicchiamo la sfera vogliamo far sparire il cubo quindi cosa facciamo facciamo unity event nello unity event che è il primo in assoluto qui ci mettiamo il cubo e diciamo che il cubo praticamente deve sparire quindi essendo game object gli mettiamo il set active e gli diciamo che quando interaggiamo il cubo il set active del cubo deve mettere false cioè vuoto ok questo punto già in realtà funziona quindi avremmo già risolto il problema nel senso che se noi facciamo ora il test di questa piccola scena tutto in tempo reale togliamo il vecchio sandbox il nuovo sandbox ecco vedete abbiamo il nostro interruttore ci avviciniamo quando siamo abbastanza vicini abbiamo un interact se siamo lontani non comparo interact e quando facciamo interact sparisce il cubo ora il problema di questa cosa è che la sparizione del cubo non può essere annullata cioè se riclicco ancora il cubo non riappare e quindi l'oggetto di questo video da questo momento in poi è eventualmente quello di fare questo effetto quindi accendi luce spegni luce apri chiudi porta a seconda dell'interactable allora per fare questo torniamo nello script visuale che non abbiamo ancora visto e sulle variabili è molto importante la definizione delle variabili quindi andiamo sul nostro oggetto interruttore e qui creiamo uno script machine l'avevo già creato prima ma lo cancello se riesco no dove aspetta script machine facciamo remove command così ripartiamo di zero quindi interactable che ha questo effetto qua questo effetto lo possiamo togliere perché in realtà adesso non ci interessa abbiamo meno diciamo cose che si muovono e poi dobbiamo definire delle variabili allora le variabili di questo oggetto che definiamo sono sostanzialmente il fatto che abbiamo messo l'invisibilità quindi vogliamo rendere invisibile quindi mettiamo un invisibile abbiamo creato una variabile invisibile e la mettiamo di tipo boole boole vuol dire che può essere vera o falsa in questo caso essendo che il cubo è visibile la mettiamo vera la mettiamo falsa perché non è invisibile cioè il default non facciamo niente in teoria e poi dobbiamo aggiungere un'altra variabile che indica il target questo è molto importante il target sarebbe l'oggetto che vogliamo che venga reso invisibile quindi l'oggetto di solito la cosa più interessante di ulti è avere gli oggetti tipo gameobject e poi dobbiamo mettere al solito più o meno come abbiamo fatto prima con interactable il valore corrispondente al cubo il target che vogliamo controllare ok quindi queste variabili essendo che abbiamo cliccato sull'oggetto e siamo sull'inspector dell'oggetto l'oggetto l'oggetto sfera sono le variabili che sono contenute dentro la sfera quindi abbiamo creato le due variabili invisible che al momento iniziale è 0 e poi target per far capire poi allo script vediamo vedremo su che cosa agire e a questo punto andiamo effettivamente sul nostro script quindi come si fa a fare lo script facciamo add component facciamo un machine script machine che sarebbe lo visuale e nel visuale dobbiamo mettergli lo script su cui vogliamo lavorare e quindi facciamo un nuovo andiamo dentro qui vediamo assets classroom quindi andiamo classroom e poi siamo in visual in visual qui ce n'era già uno prima e facciamo uno script che chiamiamo video script cioè lo script che serve adesso per il video vedete che è comparso qua sotto tutte le cartelle video script e abbiamo anche la possibilità di editarlo ora cominciamo ad editarlo cliccando su quel simbolo vediamo che abbiamo due eventi on start e on update per il momento per i nostri fini sia il start che l'update non sono interessanti però vedete che una volta avendolo cliccato mentre abbiamo cliccato la sfera abbiamo evidenziato object e sull'object ci sono le variabili di object presenti che ci interessano quindi abbiamo una variabile che ci indica praticamente chi è l'oggetto che dobbiamo rendere visibile e una variabile che ci dice se dobbiamo renderlo visibile o invisibile e questa variabile dobbiamo ogni volta invertirla allora come funziona il tutto partiamo dall'interactable ok abbiamo questa lavagna in cui in qualunque punto possiamo fare tasto destro e poi andare a vedere sugli eventi e gli eventi a parte che dovrebbe essere anche special da qualche parte ok special ecco negli eventi di special dovremmo avere tutti i vari eventi che ci sono eventi a suggerire quest eccetera eccetera e adesso non mi ricordo mai quali sono quelle cose quindi non ricordandomi mai lo clicco qua quindi facciamo interactable quindi vogliamo reagire a interact ok interact che sarebbe la pressione e andiamo a vedere qual è il il nostro oggetto proprio interactable che per inter ah eccolo qua ecco l'oggetto intera quello che c'è la manina vedete questo qua interactable prendiamo questo nodo allora nella programmazione visuale abbiamo una serie di questi nodi che dicono cosa fare e quando vengono eccitati gli eventi quindi si programma in maniera visuale quindi si dice se viene cliccato quale oggetto disse che sarebbe la sfera su cui siamo posizionati quella che ha per intenderci queste cose dobbiamo fare l'oggetto un'operazione interessante che sarebbe il set active vogliamo rendere invisibile quindi set active game object set active con un valore e quindi un certo oggetto x che adesso vedete che impostato il disk sarebbe la sfera ma noi vogliamo ragionare sul target quindi in realtà dobbiamo prendere l'oggetto target quindi lo prendiamo in questo modo e su questo oggetto target vogliamo mettercelo o visibile o invisibile allora per semplicità facciamo semplicemente una prima prova in cui diciamo che se premiamo il tasto di questo oggetto lo rendiamo semplicemente non visibile quindi mettiamo set active a false ok questo è sostanzialmente lo stesso lo stesso mestiere che avevamo fatto senza script senza coding quindi sostanzialmente possiamo chiudere un attimo questo facciamo il test dell'active scene in cui abbiamo ora lo schettino che fa poco però comunque a fini didattici è molto utile vedere che avendo fatto questo togliendo la vecchia sandbox ecco quindi qua abbiamo di nuovo l'interactable che si eccita quando andiamo vicino e se facciamo clic scompare il cubo e se li facciamo clic rimane scomparso perché abbiamo detto che abbiamo fatto esattamente la stessa cosa del no code però adesso essendo che siamo nel code andiamo effettivamente nella nostra sfera andiamo nel graffo grafico e qui dobbiamo dirgli il valore che deve mettere ok quindi il valore che deve mettere fondamentalmente deve essere estratto a partire dal valore di invisible che abbiamo prima quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il valore di invisible che rimane associato all'oggetto e poi cambiargli il valore quindi ogni volta che clicchiamo vogliamo che diventi prima da falso vero e poi da vero falso eccetera quindi la cosa che si fa è di prendere questo oggetto che si chiama get invisible e poi dobbiamo fondamentalmente negarlo dobbiamo quindi prendere il suo valore che aveva prima facciamo negate vedete che abbiamo un negate che vedete che ci fa la negazione questa negazione ci permette di avere se prima è invisible era falsa lo mettiamo true quindi a questo punto diventa effettivamente la cosa che potremmo mettere qua quindi abbiamo negato oppure questo qui è il simbolino che è una specie di tilde se non vado errato che significa in termini di logica che viene invertito il valore precedente ma poi questo valore dobbiamo conservarlo dentro la variabile quindi dobbiamo fare sostanzialmente una set variable quindi set object variable che è questa ok e vedete dobbiamo mettergli anche qua il invisible quindi mettiamo che il valore invisible viene impostato sempre di this quindi vedete qui this vuol dire che noi stiamo lavorando sempre con le variabili di questo oggetto di base che era la sfera quindi this rappresenta la sfera e quindi noi diciamo che vogliamo reimpostare invisible al valore ottenuto negando in modo tale che la prossima volta lavori tutto al contrario facendo in questo modo dovremmo aver ottenuto quello che vogliamo e cioè che abbiamo preso praticamente l'oggetto target che è il cubo e gli abbiamo detto di renderlo se prima invisible era false indicando diventa true quindi noi set active lo mettiamo a questo valore quindi quello dell'invisible oppure lo lo proviamo un attimo magari è il contrario cioè dobbiamo farlo dopo che o prima o dopo quindi il dubbio potrebbe essere questo facciamo il test per vedere se questo funziona quindi chiudiamo un attimo il nostro script facciamo il test chiudiamo quella precedente ok quindi cosa succede? adesso mi aspetto che in realtà facendo il click quando comparirà l'f ok se facciamo un click ecco rimane perché in realtà dobbiamo prendere il valore precedente però a questo punto se faccio un click no sospendo un attimo e faccio una piccola correzione ok così impariamo un po' meglio cosa succede vedete che il set variable in realtà ha le freccine verdi questo vuol dire che per essere attivato quindi per fare effettivamente il set della variabile deve comparire in una consecuzione di freccine verdi se è isolato come erano prima vuol dire che non verrà mai eseguito quindi quello che deve accadere è questo cioè che praticamente dobbiamo unire il flusso quindi il primo flusso cosa fa? fa il set active al valore e il valore viene ottenuto per esempio dal valore iniziale invisible che era false quindi lo mettiamo lo mettiamo qua in modo tale che la prima volta praticamente lo rende effettivamente invisibile e poi lo neghiamo e adesso è diventato invisibile perché l'invisibile è prima la false e quindi qui va bene farlo in questo modo e a questo punto dovrebbe essere giusto perché quando quando clicchiamo viene prima nascosto ho fatto vedere l'oggetto e poi aggiornato lo stato di invisible che attraverso queste frecce frecce verdi che sono unite con il bianco allora riproviamo a vedere cosa succede sulle nostre scene effettive sceliamo la sandbox precedente ecco siamo qua arriviamo ecco dove si vede interact facciamo click e avete sparito se facciamo click avete che fare quindi questo è un modo per rendere per fare un interruttore ora per rendere semplice il video e visto che probabilmente sono le prime volte che state usando lo script visuale sappiate che lo script reale quello che si fa normalmente è un pochino più complicato ma perché bisogna fare in modo tale se volete che anche gli altri che sono presenti in questo spazio possono vedere la porta aperta o chiusa però c'è da dire una cosa che ad esempio in un escape room potrebbe essere anche interessante che si attiva solo per una persona cioè la persona che risolve il quiz riesce andare avanti e gli altri si trovano ancora la porta chiusa l'altra cosa che volevo dire è questo sistema diciamo molto elementare cioè si può fare praticamente relativamente facilmente per aprire una porta facendola sparire quindi invece di fare l'apertura della porta sparisce e quindi ovviamente voi potete passare non è però bello da vedere quindi la cosa successiva che vorremmo fare è poi di fare in modo tale che la porta invece di sparire si animi e quindi si apra effettivamente ma ho spezzato in due deliberatamente per rendervi diciamo la vita un po' più facile quindi tornando al nostro script quindi vediamo qua abbiamo la nostra sferina la nostra sferina avete visto che c'ha intanto deve avere una sfera collider ma quello di solito se lo fate in questo modo ce l'ha già c'ha però l'interactable che abbiamo visto prima l'interactable dove possiamo scrivere anche che cosa è per esempio possiamo mettersi anche delle cose tipo vabbè qui sono door front ecco sono dei simboletti che possiamo mettere sull'interactable ma questo è generico qui interact invece di interact potete dire apri porta o sparisci porta in realtà sparisci porta come se fosse una specie di incantesimo non c'è nulla qua un interact event perché il valore cioè quello che fa effettivamente viene scritto dentro questo script questo script lo rivediamo brevemente vedete che è composto da 1, 2, 3, 4 5, 6 nodi quindi sono pochini di cui però i nodi operativi quelli che esegue quando viene cliccato sono 3 praticamente cosa succede? qui si dice che deve accadere il tutto quando si clicca su questo oggetto che è la sfera tutte le volte qui ci chiedo di questo vuol dire che è la sfera in questo caso e si dice che deve essere messa attiva cosa? l'oggetto target che avete messo nelle variabili qua target avete messo un game object che nell'inspectory prima avete associato al cubo anche ve lo dice già che il valore di questo oggetto è un cubo e quindi una volta preso praticamente il cubo si dice di farlo sparire o riapparire mettendo il set active attivo o disattivo il valore che viene messo viene messo opportunamente sulla variabile invisible quindi si può mettere il valore invisible all'inizio vale false e quindi il valore false è l'ideale per farlo sparire dopodiché con l'invisible gli diciamo facciamo negate in modo che la volta dopo diventa true perché è diventato invisibile e quindi invisible di volta in volta ci dice che il nostro oggetto cubo è stato fatto sparire oppure no tutto questo viene ottenuto leggendo invisible negando il valore negando vuol dire da false a true e da true cioè da vero e falso e da falso true è vero però ricordate che bisogna poi reimpostare la variabile in modo tale che al prossimo giro la prossima volta che viene cliccato il valore invisibile sa che deve farlo apparire o sparire in modo contrario questa cosa per quello che ne so io senza codice non si può fare ma come vedete è abbastanza semplice e permette di gestire un po' tutte le cose che richiedono apertura chiusura cose del genere la complicazione che vi accennavo prima sta nel fatto che queste variabili devono essere in qualche modo sincronizzate fra le varie persone che entrano nella stanza ma faremo un video prima detto specificatamente quindi questo è tutto per il momento e se ci sono domande chiedete pure su Facebook molte persone diciamo che non riuscivano a vedere questa struttura le variabili come si nega cosa si fa perché sono non sono molto chiare a volte ma direi che spero di averlo spiegato nel modo più semplice possibile qui il tipo abbiamo usato due tipi in questo momento tipo booleano cioè se è vero o falso rappresentato questo valore e il tipo game object che è semplicemente un placeholder cioè un posto dove possiamo mettere altri oggetti su cui operare cioè l'oggetto target su cui questo schema va ad operare ok poi l'altra ultima cosa è che questo script possiamo renderlo utilizzabile in tutti questi contesti quindi distribuiremo un piccolo unit package che contiene questo script o simili va bene allora questo è tutto e ci sentiamo la prossima volta grazie a tutti